Ecco qua il fischio d'avvio di questa gara, partiti i Valedori a tempio, il primo pallone giocato da Michele Saba, è fermato con la manovra del Valedore Sinevancho, una volta Bianco sulla sinistra, Bianco entra in aria, viene messo giù, c'è il rigore, viene messo giù, Bianco, nettissimo, al quarto minuto rigore per il Tempio, Valenti contro Mariano, 12 metri, e le gol, gol del Tempio, Sergio Valenti, 1-0 Tempio, va a festeggiare con i i suoi tifosi, con i compagni, inizia l'ora di modi per la formazione di mister nativi, al sesto minuto, Valenti realizza dagli 11 metri, il gol del vantaggio dei Galletti, e la scuola, sulla destra, voi recuperate Ferrara, il tuo pagino bianco, toccato, non augurarsi, che non sia un'ordine grave per Francesco Bianco, ma dal quindicesimo dentro Spezzicu, primo cambio è obbligato, Fuleri fermato da Secchi però in anticipo, palla per che arriva tra i piedi di Villar, può andare a servire, questa volta è sulla destra Valenti, palla in avanti a cercare Spezzicu, è buona la posizione, è il tuo gol, il gol del Giovanni Spezzicu, tre minuti sono bastati dal suo ingresso, è attimbrato, il suo primo gol in questo campionato, anche Giovanni Spezzicu, diciottesimo minuto di gara, Spezzicu raddoppia, poi ci sarà cambio intanto, calcio d'angolo, Spezzicu la mette al centro, c'è ancora il gol, questa volta è di Silvetti, primo gol anche per Giuseppe Silvetti in questo campionato, e vuole andare a festeggiare anche con la sua panchina, 3-0 Tempio, Giuseppe Silvetti la mette dentro, in scivolata, un pallone rimbalzato davanti alla porta di Mariano, riprendiamo la linea allo stadio Baislac di Valledoria, bravo Villar a rubare palla, Spezzicu a servire Uleri che se ne può andare, è buona la posizione di Uleri, Uleri solo davanti al portiere, esce bene Mariano e sventa, arriva Saba dall'altra parte, sulla destra prova Saba, riesce a superare l'avversario, il pallone arriva lì in aria ma alla fine allontana la difesa del Tempio, però c'è Villar, la conclusione, si deve distendere Mariano per mettere ancora in corner, su questa rimessa laterale mette a terra, cross al centro, di testa Uleri, non ci arriva, con la porta spalancata, sedicesimo minuto Uleri, Valenti di tacco per Uleri, bellissimo ancora questa combinazione tra i due, alla fine Valenti che se ne va a esposito, va a servire Uleri, 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 c'è ancora Mariano che riesce anche a impedire questa volta il gol attaccante del Tempio, Aloia per Uleri, dunque fa anche il suo ingresso in campo Francesco Aloia, l'ultimo acquisto del Tempio, Guzza interviene però il giocatore, allora se ne può andare Spezzico, sulla sinistra, Spezzico, lunghe falcate, palla dentro, Aloia non riesce a colpire, sulla sinistra, Goi all'indietro per esposito, adesso prova un po' a spingere Valle Doria, ancora Goi, il più rapido dei suoi, Goi si accentra e conclude, non è male la sua conclusione, l'ha provato, 35esimo Angel Goi, so giù per Tidia, pallone sporcato che termina tra i piedi di Aloia, il servizio per Valenti che controlla, Valenti, posizione decentrata, Valenti che scivola ma si rialza, palla al centro, dove c'è Corraduzza che non ci arriva, alla fine Fischia al direttore di gara, anzi Fischia è la fine di questa partita quando mancavano ancora 5 secondi, al termine comunque Tempio, 4 su 4 per i galletti di Mister Nativi Grazie Grazie